Ancora Tempestini, Mastriforti, Guariglia, Bianchi e Piazzari Sempre 5, 4, 10, Ciclomania, Giastro, BMX, Olgiati, Garda e Creazzo In pista e al comando per una tabella numero 75 Federico Tempestini, Ciclomania Racing E con 578 Simone Mastriforti, Giastro, BMX in seconda posizione E ancora Olgiati con Masco, con Nicola Guariglia in terza Vuole andare a prendere la sua semifinale E quindi grande battaglia anche in questo quarto semifinale dei G3 e G4 Scusate, vi potete spostare dal semaforo? Perché sennò non vedono...